Pasquetta a caccia di sapori per molti turisti che hanno affullato il mercatino enogastronomico occasionalmente ospitato in piazza Santa Maria Novella. Per i tanti turisti tra un museo e l'altro c'è tempo per una sosta e per gustare le eccellenze culinarie e gastronomiche del bel paese. Una birra e un panino al volo e poi di nuovo nella mischia pronti ad affrontare una nuova coda. Ma c'è anche chi contesta la scelta del mercatino in piazza. Penso che in piazze come Santa Maria Novella, Santa Croce e altre per l'importanza che hanno da un punto di vista storico e artistico della città non siano adatti né in altri periodi, tanto o meno in questo periodo in cui la città è piena di turisti e vengono a Firenze non per cercare mercatini per mangiare salami, prosciutti e altre cose, ma vengono per conoscere l'arte. Quindi vedo un imbruttimento della città, non so per quali interessi, di chi. La fila per visitare la Basilica e il museo è lunga ma scorre velocemente. Un motivo in più per aspettare, prima di poter ammirare il crocifisso di Giotto, la Trinità del Masaccio, il ciclo di affreschi del Ghirlandaio nella Cappella Maggiore. Poi visita al museo e ai chiostri. Anche a quello grande è oggi eccezionalmente aperto. La piazza, che da un anno ha un allestimento nuovo, comprato all'inglese, interminabili sepi di rose, sta assorbendo bene il pienone di turisti e si appressa ad accoglierne di nuovi quando il 30 aprile, per la Notte Bianca, aprirà il tanto atteso Museo del Novecento sotto il loggiato delle Leopoldine. Per ora l'apertura sembra ancora cosa lontana, nessuna traccia del museo che sarà.